Benvenuti nel mondo degli orologi Blackout Concept. Blackout Concept è un marchio di personalizzazione di orologi, noto per le sue creazioni su misura per personaggi famosi come Kanye West e Karl Lagerfeld. Tuttavia, il marchio sta cambiando direzione con l'obiettivo di creare la propria collezione di modelli, offrendo ai clienti design accattivanti a prezzi accessibili. L'idea alla base di questa nuova strategia è quella di offrire ai clienti l'opportunità di avere al polso l'orologio dei loro sogni, senza dover spendere una fortuna. Per raggiungere questo obiettivo, il marchio si è strutturato in modo da garantire l'affidabilità dei propri modelli e ha instaurato una partnership con un orologiaio svizzero certificato dai marchi più famosi. Il nuovo gruppo di gestione, composto da Timothy Ploubeau, imprenditore esperto, e Etienne Rousseau, specializzato nella gestione commerciale, ha l'obiettivo di far crescere il marchio e di raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, il marchio ha deciso di puntare su valori come la qualità, l'affidabilità e l'accessibilità, per garantire ai clienti la migliore esperienza d'acquisto possibile. Il marchio Blackout Concept si è sempre distinto per la personalizzazione degli orologi, creando modelli unici e innovativi per i suoi clienti. Ora, con la creazione di una propria collezione di orologi, il marchio si prepara ad entrare in una nuova fase della sua storia. Grazie alla partnership con un orologiaio svizzero certificato, il marchio garantisce la massima qualità e affidabilità dei propri modelli, offrendo ai clienti un prodotto di alto livello a prezzi accessibili. Uno degli obiettivi del marchio è quello di offrire ai clienti design accattivanti e innovativi, simili a quelli dei più grandi orologiai, ma a prezzi più accessibili. Questo è possibile grazie alla filosofia del marchio che punta sulla qualità dei materiali e sulla precisione del meccanismo. Inoltre, il marchio garantisce la massima affidabilità dei propri modelli, testando ogni singolo orologio prima di metterlo in vendita.